Sono con Luigi Favilli fuori del negozio di Arezzo perché qui c'è un'offerta particolare se non sbaglio su Penny Black e su Navigare Uomo. Sì, queste sono le due aziende che sono un'offerta in questo negozio mentre negli altri ce ne sono altre perché i nostri negozi sono abbastanza diversificati anche perché questo è un negozio di 200 metri quello di Terranova di 3000 quindi chiaramente laggiù ci sono altre offerte perché c'è offerta questa settimana su Marella, su Pepe Jeans, sulla Brumse da bambino. Sono offerte che facciamo di solito nel mese di novembre per movimentare un po' il lavoro perché di solito commercialmente è un mese poco interessante anche se col freddo di questi giorni devo dire che se potevamo anche evitare l'offerta ma ci sono, va bene, anzi meglio. Tra l'altro siamo in attesa del Natale quindi perché non approfittare? Ricordo che voi avete anche un punto vendita in Casentino che è a magazzini Union dove le offerte e la roba poi alla fine... Sì, ogni settimana facciamo delle offerte nuove per dare un po' di convenienza al prodotto per fare in modo che chi ha bisogno di qualcosa riesca a trovare anche un po' di risparmio che è una cosa dove noi di solito si cerca di stare attenti. E' chiaro che quando fai l'offerta lo fai su alcune linee che sono quelle tra l'altro un po' più care e che quindi dai l'occasione a chi ha un'esigenza di risparmiare. Poi è chiaro che si cerca sempre di fare bene, di lavorare sempre di più per poter assumere anche persone nuove come è successo quest'anno. Insomma che noi si lavora bene e quindi si è assunto persone. E' chiaro che è un lavoro e quindi si cerca di guadagnare, però si cerca nello stesso tempo. Poi io ho un'opinione che era quella poi storica del mio babbo, proprio. Se tu fai risparmiare i clienti sono contenti e ritornano. Insomma, questa è un po' la logica del mercato. E se il suo babbo faceva questo lavoro e lui fa questo lavoro e insomma anche Riccardo mi sembra invogliato a fare questo lavoro che è il suo figliolo, un motivo ci sarà o no? Porcellotti, prezzi buoni da fare a cazzotti. Mi piace come è il lavoro. Grazie a tutti.